170 borse di studio finanziate dalla Fondazione Carispac che le ha messe a disposizione di ragazzi inoccupati e disoccupati nell'Aquilano dal 2014 al 2018 tra 18 e 35 anni. 90 borse sono poi state trasformate in rapporti di lavoro continuativi, un progetto che è nato 5 anni fa. La Fondazione ha stanziato anche 1,8 milioni di euro. La durata di ciascuna borsa lavoro è stata di 12 mesi più 4, l'importo corrisposto mensilmente è stato di 800 euro, l'età media dei tirocinanti coinvolti è di 33 anni, il 51% sono state donne e il 49% uomini. Il settore merceologico dove c'è stato maggiore inserimento è quello manifatturiero, a seguire costruzione di lì e sanità e assistenza. Il risultato del progetto è stato presentato all'Aquil all'auditorium del Parco. All'incontro erano presenti anche il candidato alla presidenza della regione Abruzzo Giovanni Legnini, il presidente Vicario Lolli, candidati del PD Pierpaolo Petrucce e Patrizia Masciovecchio, la responsabile del centro per l'impiego dell'Aquila Francesca Farda. Cerchiamo di favorire lo sviluppo della nostra provincia e soprattutto l'incontro tra formazione e mondo del lavoro è stato il commento del presidente della fondazione Marco Fanfani. La fondazione opera da sempre senza scopo di lucro, ricordato il segretario generale David Iagnemma e lo sviluppo economico e sociale sono due attività connesse tra loro, sulla quale abbiamo sempre investito tempo e risorse. Importanti anche le testimonianze dei giovani che hanno partecipato alle borse lavoro.